Presidente, che periodo sta affrontando la Pallavolo? L'entusiasmo e la vicinanza verso questo sport sono aumentati dopo le vittorie recenti a livello europeo? Assolutamente sì, la Pallavolo è sempre stato uno degli sport principali qui in Italia, direi nel mondo, qui in Italia è certamente il terzo sport a livello di diffusione, c'è un grande entusiasmo, questa tra l'altro è una piazza che vive di pallavolo da sempre e chiaramente noi viviamo anche questi momenti in maniera anche più attenta, anche perché molti di questi successi sono derivati grazie anche a tecnici e ad atleti che arrivano dal territorio, quindi questo per noi rappresenta un grande privilegio, un grande prestigio. Che cosa ha la spinta ad accettare la presidenza e che cosa si aspetta dalla nuova stagione? Ma accettare la presidenza di una società sportiva, di uno stadio di pallavolo in questo caso, intanto è la grande passione che guida tutto e non può essere altrimenti, mi occupo di pallavolo da sempre sostanzialmente, da quando ho la maggiore età sostanzialmente, anzi anche prima, per cui sono più di 40 anni che mi occupo di questa cosa, prima come giocatore scarsissimo e poi essendo un giocatore scarsissimo ma un grande appassionato mi sono dedicato all'attività di allenatore, poi dirigente e poi alla fine in questo momento ho il privilegio di fare il presidente di una società importantissima come la Virtus. Mi ha spinto il progetto che possiamo portare avanti, è un progetto straordinariamente interessante che può interessare un ampio territorio, parlo delle collaborazioni con l'Adriati Chiafano, con l'Apa Blu Crezio, della quale sono stato presidente per tanti anni. C'è una prima squadra in Serie A che naturalmente è per noi di un'importanza assoluta e c'è un lavoro fatto sul giovanile, sia il maschile che il femminile, molto importante. Questa è una società della Virtus.fano che ha vinto degli scudetti a livello giovanile in passato, quindi vogliamo riportare un pochino quell'entusiasmo e riportare il livello tecnico dei nostri giovani ad un punto tale per cui la nostra presenza a livello regionale e a livello nazionale sia sempre maggiore. A che punto è il mercato? Il mercato è sostanzialmente chiuso, il DS Brunetti come sempre ha fatto un eccellente lavoro, abbiamo riconfermato il coach Castellano che ha fatto un eccellente lavoro da quando è arrivato, tra l'altro ha dato una svolta alla squadra in tempi rapidissimi, riconfermatissimo. Direi che la squadra è sostanzialmente fatta, siamo pronti per iniziare la preparazione, adesso a fine, a metà agosto, dopo la metà di agosto. Abbiamo la sensazione che quest'anno ci potremmo divertire tanto al palazzetto. E nel frattempo puntate anche sulle nuove leve? Ma questo per noi è vitale, il lavoro sul giovanile diventa assolutamente vitale, sia al femminile che al maschile. Ripeto, queste collaborazioni tendono proprio ad allargare il bacino di utenza. Noi mettiamo a disposizione i tecnici più qualificati, abbiamo nel nostro portafoglio tecnici personaggi sicuramente di altissimo spessore. L'ultimo arrivato è Peppe Galli che è un ritorno qui a Fano dove ha lavorato per tanti anni anche con noi in APAV negli anni scorsi. E' un aspetto sul quale puntiamo molto perché avere una prima squadra naturalmente in Serie A da grande prestigio, se potessimo avere una prima squadra in Serie A o in Serie B femminile con molti componenti del territorio, naturalmente darebbe un prestigio ancora più elevato. E quindi è un lavoro che nel tempo vogliamo costruire, posto che è stato fatto tantissimo anche negli ultimi anni, quindi si tratta solo di continuare questa bella tradizione. Ecco, ma secondo lei i campi e le strutture del nostro territorio sono adeguati alle vostre esigenze? Sono adeguati per forza, nel senso che noi ci adeguiamo naturalmente, no? È chiaro che noi non ci accontentiamo mai. Lei pensi che in questo momento noi con queste collaborazioni muoviamo qualcosa come mille tra atleti e atlete, quindi coinvolgiamo 800-900 famiglie in questa nostra attività. Gli spazi non sono mai sufficienti naturalmente, quindi noi cerchiamo di adeguarci. È chiaro che è stato fatto un bellissimo lavoro qui a Fano con la nuova struttura, quella appunto dietro la trave, che ovviamente ci permette di dare molto sfogo alle nostre attività, soprattutto sul giovanile. Il palazzetto, che è il nostro contenitore della prima squadra, è ovviamente, lo sappiamo tutti, insomma comincia a sentire un pochino, no? Il problema dell'età, pur essendo assolutamente adeguato in questo momento delle circostanze, è chiaro che Fano, secondo me, merita un palazzetto adeguato perché potrebbe diventare veramente la casa del volley e questa è la città del volley. Come Pesaro lo è del basket, questa è certamente la città del volley. Questo, secondo noi, potrebbe dare veramente quello sprint, quel boost definitivo per diventare veramente centrali anche nella pallavolo a livello nazionale. Tenendo presente che abbiamo un'organizzazione, anche dal punto di vista dirigenziale, assolutamente da serie a uno, voglio dire, veramente le nostre società, la nostra società, la Virtus, è organizzata straordinariamente bene da questo punto di vista. Ha parlato prima di coinvolgimento di centinaia, se non di migliaia di persone attorno a questo sport. C'è un messaggio, un appello che vuole lanciare agli appassionati di pallavolo? Ma, intanto, l'obiettivo è di riempire il palazzetto, sempre. Questo per noi diventa fondamentale, si crea entusiasmo, si crea entusiasmo attorno alla squadra, si crea entusiasmo attorno a coloro che magari possono aiutare la squadra a diventare sempre più forte e strutturata. E quindi parlo delle aziende, parlo del territorio, sostanzialmente. Noi ce la metteremo tutta dal punto di vista tecnico-organizzativo per cercare di essere sempre competitivi. Chiediamo davvero un grande supporto, un grande supporto fin dal giorno 1 perché, ripeto, quest'anno possiamo divertirci tanto e questo porterà poi conseguentemente ad un vantaggio a tutto il movimento. Quando si riparte ufficialmente? Il campionato di Serie A3 riparte il 2 ottobre. Tutti i campionati giovanili, regionali, provinciali, eccetera, ripartono anche loro tra settembre e ottobre. Nel dettaglio chi entra e chi esce? Ma intanto abbiamo riconfermato Nicola Zonta che ha fatto molto bene l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte del campionato. Abbiamo riconfermato Gozzo. C'è un ritorno graditissimo che è lo schiacciatore Stefano Ferri, un giovane di grandi prospettive. E' un acquisto importante, il bomber. Abbiamo preso, abbiamo portato a fano Christoph Marx che è stato in passato il miglior realizzatore in Serie A2. Quindi ci aspettiamo davvero tantissimi punti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.